Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Il traffico si mantiene regolare su strade e autostrade della Toscana. Prudenza in A1 per nebi a banchi tra Rioveggio e Aglio. Raccomandiamo di montellare la velocità e di mantenere la distanza di sicurezza. In FIPILI informiamo che dal lunedì 27 gennaio verrà aperto un nuovo cantiere all'altezza del viadotto del Turbone nel tratto Ginestra-Montelupo-Fiorentino. Il lavoro interesserà un tratto di 400 metri e servirà per effettuare lavori di adeguamento delle barriere stradali e delle barriere acustiche. Nel periodo del cantiere è previsto uno scambio di carreggiata per gli automobilisti in transito. I lavori saranno eseguiti prima sulla carreggiata in direzione mare e poi su quella in direzione di Firenze, percorsi alternativi sulla SP12 della Val di Pesa. Muoversi in Toscana Infio è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio! Grazie a tutti!